Hanno scelto di rimboccarsi le maniche e di dire basta alla mentele spesso sterili per costruire un progetto condiviso capace di restituire vitalità e dinamismo in una strada che è un tempore al fulcro del commercio cittadino, Corso Bandiera. Sono 52 le attività commerciali che hanno dato vita a un'iniziativa che per due giorni, il 7 e l'8 dicembre prossimi, vestirà con i colori e le emozioni del Natale tutta la strada. Forti del successo, è andato anche oltre le loro pur fiduciose aspettative della festa di Halloween che ha richiamato un'affluenza davvero notevole. E questa mattina in conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi e il programma delle due giornate. Anna Bendotti, in rappresentanza dei commercianti, ha puntato l'accento sull'importanza di lavorare tutti insieme con la consapevolezza che l'amministrazione non dispone di grandi risorse per quest'evento e allora bisogna darsi da fare. Sì, effettivamente dopo questo riscontro ci ha dato la spinta a poter prendere una nuova iniziativa per un evento natalizio e soprattutto siamo felici del fatto che anche i pochi scettici che erano rimasti in Corso Bandiera invece per questo evento natalizio hanno partecipato in maniera totale. Quindi abbiamo raggiunto la partecipazione del 100% anche dei nuovi arrivati e soprattutto ci tengo a sottolineare che questa organizzazione di eventi riesce perché è riuscita e speriamo che riuscirà anche questa volta perché noi teniamo veramente conto del parere di tutti e tutti si affidano a noi in maniera totale, noi che magari siamo quelli che hanno più idee e che riescono a mettere in pratica però c'è la collaborazione anche poi manuale di tutti quanti. Noi prima cosa vogliamo dire che ringraziamo il Comune per non aver ostacolato nessuna nostra decisione, speriamo che in futuro ci possa dare una mano anche a livello economico tenendo presente che stiamo lavorando bene per far sì che Corso Bandiera possa essere uno stimolo anche per altri commercianti a organizzarsi e a fare altri eventi e che la rotazione della gente che possa venire a Lanciano sia sempre massiccia e che abbia sempre qualcosa di nuovo da vedere con un nuovo commercio perché effettivamente il commercio può morire però può anche risorgere dalle proprie ceneri se dei commercianti si possono organizzare autofinanziandosi perché di fatto non è che si sta finanziando il Comune, si sta finanziando le proprie attività e quindi siamo noi in primis che dobbiamo credere in noi stessi e in quello che facciamo. Le nostre idee cerchiamo di farle essere sempre più innovative, di proporre sempre qualcosa di nuovo grazie anche a chi ha delle idee come la mia collaboratrice in questo caso Stefania Santobuono ma io tengo a precisare che noi facciamo tutto insieme, tutte e 50, 52 attività, 52 attività partecipano chi in un modo e chi in un altro anche solo con il sostegno morale, per noi è importante il pareridito di tutti e prima di prendere qualsiasi decisione informiamo tutti questa è la cosa fondamentale che fa sì che noi andiamo avanti. Sul programma si è soffermata Stefania Santobuono? Allora il 7 e l'8, partiamo con il 7 con l'entrata trionfale di Babbo Natale, con le renne vere, Fulmine e Saetta e poi avremo anche dei balletti, degli elfi, delle Babbe Natale, anche perché bisogna dare emotion ai bambini. Ci sarà anche una palestra alla Peter Pan che si esibirà con dei balli, faremo nevicare, nevicherà bambini quindi venite, mi raccomando. E questo il 7 dalle 4, 4 e mezza fino a mezzanotte e la giornata dell'8 tutto il giorno dalle 10 a mezzanotte. Ci sarà una postazione dove Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini, la foto, ricordo, per chi vuole farla, sempre con le renne, due postazioni per le stalle, diciamo, per le renne che devono sostare, devono riposare, le scuole coinvolte, sì, una scuola ero e ottobrini, prima inaugurerà qui i presepi del Diocleziano e poi verranno da noi. Speriamo che vada tutto per il meglio, come d'altronde è stato il successo di Alba. Noi ce l'abbiamo messa tutti, come diceva Anna, tutti 50 i negozi, a volte vedendomi arrivare i commercianti scappavano perché preoccupati per quello che dovevo proporre e tutto. Comunque siamo più che soddisfatti. Parole di apprezzamento sono arrivate dal sindaco Mario Pupillo, per il quale l'impegno concreto di questi commercianti rappresenta un segnale forte e positivo e ha rinnovato il sostegno, per quanto possibile, dell'amministrazione. Anche l'assessora Francesca Caporale ha ribadito l'efficacia di questo progetto che apre la strada ad altri. L'obiettivo prioritario è riportare gente in città, creando occasioni che attraggono e richiamano. Gli eventi che sono stati organizzati dai commercianti di Corso Bandiera, già dal primo appuntamento, quindi quello di Halloween, sono stati ben recepiti da noi. Purtroppo, come sottolineavano i commercianti stessi, il Comune e l'amministrazione non hanno possibilità economiche di intervenire. Siamo stati a disposizione per poterli agevolare nelle richieste che sono state effettuate e come amministrazione, in particolare come assessore al commercio, sono molto felice di questa nascita, di questa nuova aggregazione di commercianti. Spero che questo sia da sprono per tutto il resto della città. Noi saremo sempre al loro fianco per poterli sostenere. Speriamo nei prossimi anni, anche da un punto di vista economico, quindi insieme a loro, creare nuovi eventi per far tornare Lanciano quella che era negli anni precedenti. Quindi un polo importante per il commercio, che abbia oltre due centri commerciali, comunque un centro commerciale diffuso all'interno della città, che possa dare una presenza di attività e quindi merci in vendita di una variazione molto differente rispetto a quella dei centri commerciali, che comunque richiami persone non soltanto dall'interno della nostra città ma da tutto il circondario.